Allora direi... Tasso Rosso! Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Ma che sorpresa! Delle guardie pronte a combattere. Non tempo! Stupediti! Asso! Grazie a tutti. 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 Ho quell'infante, gliela faccio vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posso portarti in un luogo sicuro. Torniamo alla stanza delle necessità. Dick sarà felice di accoglierti. D'accordo, professore. Ci vediamo presto. Grazie a tutti. 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 E ora la pagherai. Protetto. Protetto. Stupeticcio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi sa dove andrò a finire. Un modo interessante per nascondere un tesoro. Grazie a tutti. 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 Oro sei mio, demigai. Grazie a tutti. Non era poi così complicato, Merlino? Cerchiamo di non perdere la testa! No, no, no!